Oggi prima di dare la parola ai nostri servizi fa anche una riflessione sul covid e sulla missione che potrebbe essere quella dei prossimi giorni, cioè la missione del salvare il Natale perché c'è naturalmente l'aspetto sanitario, c'è ovviamente il dramma di chi sopravvive avendo perso dei familiari, degli amici, dei parenti e c'è anche l'aspetto economico e allora la missione è anche quella di salvare il Natale, soprattutto alla luce dei nuovi casi positivi che sono stati registrati ieri, erano ben 354 i nuovi positivi con un incremento quasi del doppio rispetto al giorno precedente sappiamo anche che i ricoveri hanno superato delle soglie psicologicamente importanti la zona bianca comincia a vacillare anche se per ora va detto il passaggio in gialla prevede diversi parametri e non tutti sono negativi preoccupa comunque anche l'aumento di contagi tra gli studenti un terzo dei nuovi positivi ha meno di 12 anni per ragionare di tutto ciò questo pomeriggio a Pescara in assessorato alla sanità il presidente della regione Marco Marsilio ha convocato l'unità di crisi con gli esperti e con i componenti della task force regionale va valutata naturalmente anche l'occupazione dei posti letto che è piuttosto elevata ma non così preoccupante soprattutto per ciò che concerne l'area medica intanto si ragiona anche su come gestire Novax, No Green Pass convincere i recalcitranti a vaccinarsi e accelerare le terze dosi c'è questo incubo che è appunto quello di finire in zona arancione proprio sotto le feste di Natale si riflette a questo proposito anche sul cosiddetto Super Green Pass le regioni, alcune regioni hanno fatto pressing sul governo per chiedere un certificato verde che in sostanza premi chi si è vaccinato in pratica consenta solo ai vaccinati di poter frequentare anche in zona gialla arancione di poter frequentare cinema, teatri, musei, stadi, piste da sci per gli altri invece resterebbe in vigore un Green Pass anche solo con il tampone ma che andrebbe utilizzato solo per recarsi al lavoro o per i servizi essenziali su questo punto però non c'è l'unanimità dei presidenti delle regioni qualcuno teme il rischio di innescare altre tensioni che già sono in atto fra chi è vaccinato e chi non lo è